Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia, perché nella grande prova della tribolazione la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Parola di Dio. De la seconda lettera di San Paolo, apotre aux Corinthiens. Fratelli, noi vogliamo vi far conoscere la grazia che Dio ha accordato alle chiese della Macedonia. Dans le multiple stress che le mette a l'espreuve, l'abondanza di loro gioia e loro extreme povertà hanno abbordato in trésor di generosità. Voi conosce, in effetti, il don generale di nostro Signore Gesù Cristo. Lui che è ricco, si è ricco, si è ricco per a causa di voi, per che voi diventate ricco per la sua povertà. Parola del Signore. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. We want you to know, brothers and sisters, about the grace of God that has been granted to the churches of Macedonia. For during a severe ordeal of affliction, their abundant joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that by his poverty you might become rich. The word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wir berichten euch jetzt, Brüder und Schwestern, von der Gnade, die Gott den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat, während sie durch große Not geprüft wurden, verwanderten sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihrer selbstlosen Güte. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y en las tribulaciones ha crecido su alegría, y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Leitura de la segunda carta de São Paulo a los Corintios. Amigos, hermanos, desejamos dar-vos a conocer a graça que Dios concedeu a las iglesias de Macedonia. En medio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Vos conheceis a bondade de nuestro Señor Jesucristo. Sendo rico, se fez pobre por vos, a fin de vos enriquecer por su pobreza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Z drugiego listu świętego Paweła Apostoła do Koryntian. Donosimy wam bracia o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże. La pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel mondo. Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato nel suo cammino devastante grandi disuguaglianze e discriminazioni, e le ha aumentate. La risposta alla pandemia è quindi duplice. Da un lato è indispensabile trovare la cura per un virus piccolo ma tremendo, che mette in ginocchio il mondo intero. Dall'altro dobbiamo curare un grande virus, quello dell'ingiustizia sociale, della disuguaglianza di opportunità, della marginazione e della mancanza di protezione dai più deboli. In questa doppia risposta di guarigione c'è una scelta che, secondo il Vangelo, non può mancare, l'opzione preferenziale per i poveri. E questa non è un'opzione politica, è pure un'opzione ideologica, un'opzione di partiti, no. L'opzione preferenziale per i poveri è al centro del Vangelo. E il primo a farlo è stato Gesù. L'abbiamo sentito nel brano della lettera ai Corinzi che è stato letto all'inizio. Lui, essendo ricco, si è fatto povero per arricchirci a noi. Si è fatto uno di noi. E per questo, al centro del Vangelo, c'è questa opzione, al centro dell'annunzio di Gesù. Cristo stesso, che è Dio, ha spogliato se stesso, rendendosi simili agli uomini, e non ha scelto una vita di privilegio, ma ha scelto la condizione del servo. Anientò se stesso, facendosi servo. E' nato in una famiglia umile e ha lavorato come artigiano. All'inizio della sua predicazione ha annunciato che il Regno di Dio, i poveri sono beati. Stava in mezzo ai malati, ai poveri, agli esclusi, mostrando loro l'amore misericordioso Dio. E tante volte è stato giudicato come un uomo impuro, perché andava dai malati, dai lebrosi. E questi fanno impura la gente, secondo la mentalità della legge dell'epoca. E lui ha rischiato per essere vicino ai poveri. Per questo i seguaci di Gesù si riconoscono dalla loro vicinanza ai poveri, ai piccoli, ai malati e ai carcerati, agli esclusi, ai dimenticati e a chi è privo del cibo e dei vestiti. Possiamo leggere quel famoso protocollo sul quale saremmo giudicati tutti, saremmo giudicati tutti. Matteo venticinquesimo. Questo è un criterio chiave di autenticità cristiana. Alcuni pensano erroneamente che questo amore preferenziale per i poveri sia un compito per pochi, ma in realtà è la missione di tutta la Chiesa, diceva San Giovanni Paolo II. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri. La fede, la speranza e l'amore necessariamente ci spingono verso questa preferenza per i più bisognosi, che va oltre la pur necessaria assistenza. Implica infatti il camminare assieme, il lasciarci evangelizzare da loro, che conoscono bene Cristo sofferente, il lasciarci contagiare dalla loro esperienza della salvezza, della loro saggezza e della loro creatività. Condividere con i poveri significa arricchirci a vicenda. E se ci sono strutture sociali malate che impediscono loro di sognare per il futuro, dobbiamo lavorare insieme per guarirle, per cambiarle. E a questo conduce l'amore di Cristo, che ci ha amato fino all'estremo, e arriva fino ai confini, ai margini, alle frontiere esistenziali. Portare le periferie al centro significa centrare la nostra vita in Cristo, che si è fatto povero per noi, per arricchirci per mezzo della sua povertà. Abbiamo ascoltato. Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi, e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori. Per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un'occasione per costruire qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere un'economia di sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. Con questo non condanno, io non voglio condannare l'assistenzialismo. Le opere assistenziali sono importanti. Pensiamo nel volontariato, che è una delle strutture più belle che ha la Chiesa italiana. Questo si fa all'assistenzialismo. Ma dobbiamo andare oltre a risolvere i problemi che ci spingono noi a fare assistenzialismo. Un'economia che non ricorra a rimedi che in realtà avvelenano la società, come i rendimenti dissociati dalla creazione di posti di lavoro dignitosi. Questo tipo di profitti è dissociato dall'economia reale, quella che dovrebbe dare beneficio alla gente comune, e inoltre risulta a volte indifferente ai danni inflitti alla casa comune. L'opzione preferenziale per i poveri, questa esigenza etico-sociale che proviene dall'amore di Dio, ci dà l'impulso a pensare e disegnare un'economia dove le persone e soprattutto i più poveri siano al centro. E ci incoraggia anche a progettare la cura del virus privilegiando coloro che ne hanno più bisogno. Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione non sia universale e per tutti. E che scandalo sarebbe se tutta l'assistenza economica che stiamo osservando, la maggior parte con denaro pubblico, si concentrasse a riscatare industrie che non contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune o alla cura del creato. Sono dei criteri per scegliere quali saranno le industrie a aiutare, quelle che contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune e alla cura del creato. Quattro criteri. Se il virus dovesse nuovamente intensificarsi in un mondo ingiusto per i poveri e più vulnerabili, dobbiamo cambiare questo mondo. Con l'esempio di Gesù, il medico dell'amore divino integrale, cioè della guarigione fisica, sociale e spirituale, com'era la guarigione che faceva Gesù, dobbiamo agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili e per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali. Propongo che ciò venga fatto a partire dell'amore di Dio, ponendo le periferie al centro e gli ultimi al primo posto. Non dimenticare quel protocollo sul quale saremo giudicati. Matteo venticinquesimo. Mettiamolo in pratica, in questa ripressa dalle epidemie. E a partire da questo amore concreto, come dice il Vangelo lì, ancorato alla speranza e fondato nella fede, un mondo più sano sarà possibile. Dal contrario, usciremo peggio dalla crisi. Che il Signore ci aiuti, ci dia la forza per riuscire migliori, rispondendo alle necessità del mondo di oggi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. questa doppia riposte di guarigione si trova il choix di l'optione preferentielle per i povoli. Questo amore preferentio è la mission di tutta l'Eglise. La fede, l'esperanza e l'amore ci hanno fatto questa preferenza per i più necessitati. Le conseguenze sociali della pandemia sono una grande preoccupazione per tutti. Il ritorno a la normalità dovrebbe prendere in conto la justi sociale e la protezione dell'environamento. C'è un'occasione per costruire qualcosa di differente. L'optione preferentielle per i povoli è una exigione ethico-sociale che proviene di l'amore di Dio e che ci ha l'impulsione per pensare e progete un'economia dove le persone e soprattutto le povri sono al centro. con l'exemple di Gesù la medicina dell'amore divina integrale è un'occasione per un mondo Today we have an opportunity to create something different, an ethically sound economy centred on persons, especially the poor, in recognition of their innate human dignity. How sad it would be if, for example, access to a COVID-19 vaccine were made available only to the rich and not to others in equal or greater need. May the Gospel inspire us to find ever more creative ways to exercise that charity, grounded in faith and anchored in hope, which can heal our wounded world and promote the true welfare of our entire human family. Le affido al Signore perché dia loro serenità e gioia. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. My thoughts turn especially to those families who have had to forego their summer holidays this year. I entrust them to the Lord that he will grant them peace and joy. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Pandemie hat die schwierige Lage der Armen und die große Ungleichheit in der Welt deutlich aufgezeigt. Es braucht daher nicht nur Lösungen zur Bekämpfung des Krankheitserregers, sondern auch Heilmittel gegen das große Virus der sozialen Ungerechtigkeit und Ausgrenzung der Ärmsten. Nach dem Vorbild Jesu ist die Zuwendung zu den Armen, Geringen, Kranken und Ausgegrenzten, ein entscheidendes Kriterium christlicher Authentizität. Die vorrangige Option für die Armen entspringt der Liebe Gottes und ist nicht die Aufgabe einiger weniger, sondern Sendung der ganzen Kirche. So geht diese Option über die notwendige konkrete Unterstützung hinaus und bedeutet, dass wir gemeinsam mit den Armen unterwegs sind, dass wir uns von den Notleidenden evangelisieren, von ihrer Erfahrung des Heils, ihrer Weisheit und Kreativität anstecken lassen. Wir müssen zusammenarbeiten, um kranke soziale Strukturen zu heilen und zu verändern. So stellt die Rückkehr zur Normalität eine Chance dar, etwas Neues aufzubauen, eine Wirtschaft zu schaffen, die wirklich die Menschen ins Zentrum stellt und eine echte, ganzheitliche Entwicklung der Armen fördert. Ausgehend von der Liebe Gottes wird eine heilere Welt möglich sein. Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Seguendo l'esempio di Gesù e la sua opzione preferenziale per i poveri, come singoli e come comunità della Chiesa, dobbiamo contribuire a superare le conseguenze della pandemia e a costruire un mondo più giusto e solidale. Lo Spirito Santo ci assiste in questo con la sua grazia e la sua forza. Vom Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Nach dem Beispiel Jesu und seiner vorrangigen Option für die Armen müssen wir als Einzelne und als Gemeinschaft der Kirche unseren Beitrag leisten, die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden und eine gerechtere und solidarische Welt aufzubauen. Der Heilige Geist helfe uns dabei mit seiner Gnade und seiner Kraft. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus interciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, il Santo Padre impartirà la bendizione apostolica, de modo particolare a los niños, a los ancianos, a los enfermos e a cuantos sufren. Queridos hermanos e hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difficile situazione de los pobres e la gran desigualdad che reina nel mondo. Ante questa situazione, la respuesta è doble. per un lato hai che buscar una vacuna per il virus, che sia al alcance di tutti. Però també è necessario curare otro gran virus, il della injusticia social, la marginazione e la falta di opportunità per lo più débil. Questa doble risposta implica una elezione evangélica, che è la opzione preferencial per lo pobri. Cristo mismo, siendo Dios, se despejò, se despojò de su condizione divina, nació en una familia humilde, trabajò, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos e a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su esempio è un criterio clave di autenticità cristiana. Tutti siamo chiamati a essere instrumenti di Dios per aiutare a los mal necessitati. Oggi ci preoccupano le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare a la normalità e tornare le attività economiche, però questa normalità, entre comillas, non deve incluire l'injustizia sociale e la degradazione ambientale. Abbiamo un'opportunità per construir algo nuovo, per esempio, dar impulso a una economia dove le persone, e soprattutto le più pobri, estén nel centro. Una economia che contribuye a la inclusione dei marginati, a la promocione dei ultimi, al ben comun e al cuidado della creazione. Saluto cordialmente a los fieles della lingua española. Pidiamo a Gesù che ci aiuti a curare le attività che provano i virus e anche i mali che causano la injustizia sociale. Che il amore di Dio sancato in la esperanza e fondato in la fe ci aiutare a ponere le periferie al centro e a i ultimi in primo lugar. Que il Signore los bendiga. Santo Padre, os fiéis de lingua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social, testemunhem a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final deste encontro rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre considerar a todos a benção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A pandemia evidenciou a difícil situação dos pobres e a grande desigualdade no mundo e que, ao contrário do vírus, que não faz exceção entre ricos e pobres, os homens, sim, fazem discriminações. Por essa razão, a resposta à pandemia deve ser dupla. Encontrar a cura para o vírus do corpo e curar o grande vírus da injustiça social. Neste contexto, há uma escolha que não pode faltar, a opção preferencial pelos pobres. De fato, o próprio Cristo, Deus feito homem, quis nascer numa família humilde e anunciou que são bem-aventurados os pobres. Por isso, os discípulos de Jesus, todos na igreja, movidos pela fé, esperança e caridade devem caminhar junto com os pobres, pequeninos, doentes, encarcerados, excluídos e esquecidos, deixando-se também evangelizar pelo seu exemplo de fé. Oxalá, o desejo de voltar à normalidade e retomar as atividades econômicas após a pandemia não signifique voltar a considerar as injustiças e o degrado do ambiente como algo normal. Que o exemplo de Jesus médico do corpo e da alma inspire uma economia do desenvolvimento integral dos pobres que supere o simples assistencialismo e que os esforços por encontrar uma cura para o vírus possam privilegiar os mais necessitados de modo de modo que possamos ter esperança num mundo verdadeiramente mais sadio. rivolgo para nós na Eucaristia convertendo-nos também nós em alimento para os outros ou seja mais disponíveis servindo os necessitados especialmente os mais pobres. que Deus lhes abençoe. lhes abençoe lhes abençoe lhes abençoe lhes abençoe e todos os fedeli de língua araba somos chamados ad agir agora para guarir as epidemias provocadas dai pequenos vírus invisíveis e para guarir as que provocadas das grandes e visíveis injustícias sociais. propongo que isso venga feito a partir da amor de Deus colocando as periferias ao centro dos últimos ao primeiro posto. A partir da este amor ha ancorado a esperança é fundada na fé un mundo mais sano será possível. O Senhor vos benedica a todos e vos protege sempre da qualquer mal. O que todos os homens que nos conhecem na língua de árabia nós nos convidamos para que nos atrevemos agora as medidas que nos atrevemos o vírus que nos atrevemos sem o vírus e as medidas que nos atrevemos que nos atrevemos de árabia de árabia de árabia árabia que nos atrevemos de árabia de árabia a nos atrevemos a nos atrevemos a nos atrevemos de árabia de árabia de árabia e árabia de 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 árabia árabia de árabia de árabia de árabia de árabia de árabia de árabia árabia de árabia de árabia 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 Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Tutti mi invito a dedicare sempre più tempo alla preghiera e alla formazione cristiana per essere fedeli dei scepoli di Cristo e a crescere nello spirito di solidarietà fraterna. Il mio pensiero va infine agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposti novelli. Domani celebreremo la memoria liturgica di San Bernardo di Chiaravalle, grande dottore della Chiesa e soprattutto tenero cantore della Madonna. Il suo esempio suscite in ciascuno il desiderio di abbandonarsi con fiducia alla materna protezione della Vergine Santa, Consolatrice degli afflitti. Pater Noster, Viesi in Cilis, Santificetur Nomen Tum, Adveni al Regno Tum, Fia Voluntas Tua, Sicur di Cielo e Tinter. Vanno il nostro quotidiano, Dano Vizio, Dimite novis debita nostra, Sicur di Nost, Dimittimus debitori. Non si inducas in tentazione, Se libera nos amare. Dominus ov Iscum, Sittum et Domini benedictum, Exorgnum cretusque in securum, Aiuterium nostrum in nomine Domini, Fis flesceram na terra. Benedica Vosum, Nipote Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.